Cone, ancora asso nella manica nella squadra di D'Ambrosio, un gol importante, bello soprattutto per la realizzazione, l'hai cercato e si è riuscito anche a trovarlo? Sì, sì, giusto, ho visto il portiere che si è spostato un po', ho spostato la palla, ho calciato, ho avuto un po' di fortuna, però è un gol importante, capito? Ti sei dato un grande affare, anche nel secondo tempo, quando hai cercato gli spazi giusti per colpire, però sei stato sfortunato? Sì, sì, hanno giocato bene in difesa, il calcio è così, strano, qualche volta cerchi di fare bene, però oggi non abbiamo avuto fortuna. Senti, un agnonese che rimane seconda in classifica, sta giocando un grande campionato, tu sei contento del finale del percorso fatto? Sì, sì, sono molto contento, veramente, ti dico la verità, all'inizio non mi aspettavo a questi risultati, grazie alla società, perché dall'inizio si hanno comportato bene, serie A, davvero. Senti, tu sei di origine di Francia, francese? Sì, sì, giusto, sono francese. Ti trovi bene in Molise? Sì, mi trovo bene, davvero. E quest'agnonese invece? Fa tre anni che sto all'agnone, per me è come una famiglia, capito? Ormai sei diventato molisano a tutti gli effetti. Sì, 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 mi hanno trattato bene dall'inizio fino ad oggi. Il pareggio contro l'Ururi dice che probabilmente dovreste fare anche la seconda fase del campionato, quindi ci sarà ancora tanto da giocare. Sì, 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 ci sarà tanto da giocare, però non molliamo, capito? Giocheremo fino alla fine.